Buonasera a tutti, è un piacere di incontrarvi su queste stanze del Festival della Statistica. Il tema di questo nostro tavolo rotondo riguarda gli impatti socio-economici del Covid. Molto si è parlato degli aspetti epidemiologici, si è anche parlato degli aspetti economici, degli impatti economici, ma bilanci e prospettive su quelle che potranno essere le conseguenze e soprattutto su quelle che potrebbero essere le proposte politica e tecnologiche per mitigare gli effetti negativi della pandemia non sono stati così approfonditi essendovi soprattutto una carenza di dati, inevitabilmente essendo il fenomeno ricendo. Quindi all'interno del Festival della Statistica, che ovviamente ha come scopo principale quello di valorizzare le analisi statistica e ambiti applicativi più svariati, in questa tavola rotonda abbiamo pensato di invitare quattro esperti che da punti di vista differenti si stanno occupando dello studio dell'impatto socio-economico del Covid con metodi statistici e della comprensione appunto di quali politiche e tecnologie possano meglio mitigare gli effetti. Quindi abbiamo con noi il professor Andrea Renda dell'Istituto Università Europeo, oltre che CEPS, Center for European Policy Studies di Bruxelles, professoressa Paolo Cerchiello dell'Università di Pavia, il dottor Maurizio Sallusti di SAS e il dottor Alvise De Blasi di Estilos. Darei la parola, la tavola rotonda è piuttosto concepita in modo dinamico, proprio come lo sono appunto gli sviluppi del Covid e delle politiche alte a contenerlo. Quindi darei la parola prima al professor Renda, chiedendogli di esporre i contenuti del progetto europeo Periscope, che è stato appena presentato, recentemente presentato alla Commissione Europea nell'ambito di un bando selettivo ed è stato preselezionato per il finanziamento, uno fra i quattro nati su 168 progetti e questo è quello che ha anche la più ampia portato per gli italiani e per gli statistici particolari. Prego Andrea. Grazie Paolo, buonasera a tutti, buonasera anche agli altri relatori che vedo sullo schermo. Naturalmente il fatto che stiamo qui a presentare questo progetto davanti a uno schermo è una conseguenza della pandemia e quindi siamo, se vogliamo, già in tema anche soltanto per il contesto in cui ci troviamo in questo momento, in cui ci troviamo a scambiare le nostre idee nell'occasione di questo festival. Sono molto contento e onorato dell'invito e voglio, diciamo, da non statistico ma da economista originariamente supero la mia, insomma, la mia sindrome dell'impostore, diciamo, o dell'imbucato se volete, per introdurre un progetto che ha una forte componente statistica ovviamente, ma anche tanti altri componenti di scienze sociali e di anche scienza medica. Per cui cercherò di introdurvi al progetto Periscope, che è un progetto molto ambizioso, che insieme a Paolo e Paola e altre persone abbiamo concepito, abbiamo proposto e per fortuna ci è stato anche finanziato. Ed è un progetto che si pone come uno dei principali progetti su cui punta la Commissione Europea per arrivare a comprendere gli impatti della pandemia a compasso allargato. Il problema è un problema molto semplice in una prospettiva più ampia di politiche pubbliche. Il problema è che la pandemia e il Covid-19 è arrivato in un modo, se vogliamo, non del tutto inatteso rispetto alla comunità scientifica, ma completamente inatteso per quel che riguarda la politica pubblica. Ci siamo fatti trovare impreparati per molti versi e i motivi sono tanti, in particolare tra i motivi c'è anche una scarsa attenzione ai dati, se vogliamo, perché da più parti nella comunità scientifica si era, diciamo, menzionata la possibilità di una pandemia, si erano fatti i cosiddetti stress test, era già risultato evidente che molti governi non sarebbero stati pronti a fronteggiare un evento di questo tipo. Ci sono stress test sul governo americano abbastanza evidenti, ma ci sono anche all'interno della riflessione europea. Nel momento in cui arriva la pandemia, l'Europa ancora si chiede come fare a raggiungere, per esempio, maggiore austerità, come fare a ridurre i costi della sanità, e si pone un problema fondamentalmente di efficienza nelle politiche pubbliche, senza porsi un problema che invece oggi è sulla bocca di tutti, tra i primi la presidentessa della Commissione europea anche nel suo discorso di ieri, quella che oggi si chiama resilienza, il fatto che le economie nazionali devono in qualche modo prepararsi non soltanto per sbrigare il lavoro quotidiano, se vogliamo, ma anche mettere da parte extra capacità, se vogliamo, per i momenti di emergenza. È una cosa che non siamo stati abituati a fare, è una cosa che non era parte delle nostre politiche pubbliche, è una cosa che tra l'altro impone ai governi di guardare sempre più al rischio, quindi alla distribuzione delle probabilità anche da un punto di vista statistico e predisporre i propri strumenti nel caso in cui il rischio debba poi materializzarsi nella forma, in questo caso in una pandemia, ma stiamo parlando anche di rischi di altro tipo, parliamo di cyberattacche, parliamo di rischi ibridi, parliamo di tante altre cose. Per cui molti governi, e naturalmente anche il nostro governo nazionale, si sono trovati di fronte a una circostanza nella quale non c'erano le preparazioni di fondo per gestire le politiche pubbliche, per cui tutte le misure restrittive dovevano essere, se vogliamo, improvvisate. Non c'era uno strumentario ben predisposto per monitorare l'evoluzione di una pandemia che comunque ha sempre delle caratteristiche diverse rispetto a quelle di altri eventi, epidemia o pandemia di questo tipo, quindi probabilmente anche il livello di preparazione è variato molto attraverso le regioni, attraverso i paesi e soprattutto le misure che sono state adottate, sono state adottate in molti casi senza un quadro concettuale che in qualche modo potesse dare una guida rispetto a quelle misure che poi nel medio-lungo periodo potranno avere un impatto positivo e altre che magari possono essere anche controproducenti perché creano effetti collaterali, effetti di spillover, come si chiamano normalmente, che in qualche modo risultano essere a volte quasi peggiori degli effetti che si cerca di mitigare nel breve periodo. Per cui dopo qualche mese, ma praticamente dopo qualche settimana, già la Commissione Europea aveva maturato l'idea di stimolare la ricerca per capire di più non soltanto da dove viene la pandemia ma anche e soprattutto quali sono i suoi effetti ad ampio spettro, non solo gli effetti di tipo sanitario, ma gli effetti di tipo economico, gli effetti di tipo sociale, gli effetti di tipo comportamentale, gli effetti sulla salute e la sanità mentale delle persone, soprattutto in contesto di lockdown, ma anche nel più generale contesto delle piccole e grandi misure restrittive alle quali siamo stati esposti in questo periodo. Naturalmente in tutto questo ogni paese e anche a livello diciamo regionale e a volte anche di municipalità ha adottato delle misure diverse, quindi siamo di fronte a due elementi molto importanti dal punto di vista della ricerca sul campo. Il primo è che abbiamo una serie di misure delle quali non conosciamo veramente l'impatto combinato nel medio-lungo periodo e dobbiamo cominciare a studiarlo e due che è un effetto se vogliamo un pochino più rassicurante dal punto di vista dello scienziato sociale, abbiamo una varietà di esperienze che possiamo cominciare a comparare, nel senso che a questo punto possiamo cominciare a chiederci se ci sono delle esperienze di eccellenza, degli approcci di eccellenza adottati in alcune parti del mondo e in particolare in Europa e possiamo cominciare a confrontarli e magari a sviluppare una forma di guida per chi sviluppa le politiche pubbliche che in qualche modo possa nel futuro portare a scelte più avvedute o quantomeno scelte che in qualche modo abbiano sia il breve che è il medio-lungo periodo a riferimento. Vi mostro qualche slide molto rapidamente su quello che il progetto Periscope cerca di fare, il progetto Periscope si pone proprio all'interno di questo solco, cercare di misurare gli effetti economici, sociali, comportamentali e anche dal punto di vista della mental health, se vogliamo, della pandemia. È un progetto che soprattutto Paolo e io abbiamo concepito inizialmente, abbiamo insieme anche a Paola messo su convincendo 32 partner complessivi, compresi noi, quindi compreso il CEPS dal mio punto di vista, compreso soprattutto l'Università di Pavia. Sì, adesso ve le mostro, non l'ho ancora condiviso. L'Università di Pavia abbiamo convinto altri 30 partner, tra cui università, ma anche autorità regionali, stakeholder diciamo, quindi i dottori, gli infermieri, i pazienti e esperti di economia comportamentale, esperti di statistica, esperti di intelligenza artificiale, esperti di tecnologia. Le abbiamo messi tutti all'interno di un progetto ampiamente interdisciplinare e l'abbiamo chiamato Periscope soprattutto perché, non solo perché abbiamo un acronimo che in qualche modo riporta all'idea di studiare la risposta europea agli impatti del Covid-19 e anche preparare l'Europa a future pandemie e epidemie, ma anche perché il Periscopio è quello strumento che si utilizza quando si sta sott'acqua, quando si sta in una condizione di emergenza anche se vogliamo, per cercare di vedere un pochino più chiaro se vogliamo e anche magari un po' più lontano, magari sopra la superficie dei problemi che viviamo oggi. Per cui Periscope ha anche questo significato se vogliamo più ideale. Quello che faremo in Periscope è mettere insieme, aspettate che qui, questa è una slide che avrebbe voluto mostrare Paolo, quindi non la mostro, mettere insieme una serie di dati che provengono da vari fonti, dati sulla popolazione, dati demografici, i dati ovviamente sull'evoluzione sanitaria della pandemia, i dati e le informazioni sulle misure governative, incluse anche soluzioni tecnologiche, pensate al nostro Immuni e alle tante altre applicazioni che sono state sviluppate con vari livelli di efficacia, dati sull'evoluzione socio-economica, dati sugli impatti sanitari e anche sulla sanità mentale, quindi sui problemi di salute mentale degli individui. Questi dati verranno messi insieme dentro il nostro World Package 4, insomma per quel che conta, attraverso vari contributi dentro un atlante, che è un atlante diciamo con molti contributi e quindi che dovrà essere frutto di una integrazione di dati molto avanzata, che si basa anche su progetti preesistenti, che hanno comunque dati geospaziali come il progetto Pulse, è anche un progetto che i ragazzi ricercatori hanno portato avanti nel corso del tempo, che si chiama CoronaNet, con 300 ricercatori da tutto il mondo che hanno fatto il censimento delle misure di politica pubblica a livello nazionale. Questo atlante ci porterà a identificare le best practice con un quadro di valutazione, a cominciare a sviluppare anche esperimenti per capire qual è stato l'impatto del Covid sul comportamento individuale e anche sull'attitudine a misure future, per esempio l'attitudine alla vaccinazione è una cosa che dovremmo studiare e trarne delle lezioni per le politiche pubbliche e la governance della sanità più in generale. Tutto questo porterà a un'identificazione e valutazione delle migliori pratiche da molti punti di vista, ma soprattutto da due punti di vista. Uno dal punto di vista della capacità dei nostri sistemi nazionali di assorbire futuri shock, quindi quello che chiamiamo resilienza, e anche quello che chiamiamo la sostenibilità, quindi gli impatti a medio lungo periodo dal punto di vista economico, sociale e ambientale, ambientale magari meno presente in questo caso, però sicuramente economico e sociale. Quello ci porterà, e questo progetto durerà tre anni, ci porterà ad analizzare le ulteriori soluzioni, soprattutto tecnologiche, che in qualche modo potranno contribuire a una migliore resilienza e sostenibilità in futuro, migliore preparazione per le epidemie e pandemie future e anche altri tipi di rischi. Avremo una una selezione di progetti più innovativi e più efficaci, la Innovation Challenge, come la chiamiamo, la faremo a Stoccolma tra circa 18 mesi e ne trarremo in questo pacchetto di lavoro, in questo Work Package 8, che è uno dei centrali, diciamo, su cui atterriamo con la nostra ricerca a supportare le politiche del futuro, a sviluppare due tipi di guida alle politiche pubbliche. Una è per i governi, se vogliamo, e l'altra è per le autorità sanitarie, su come gestire in futuro queste situazioni. E accanto a questo avremo una riflessione su come gestire la sanità a livello regionale, locale, nazionale, europeo e globale, quindi la cosiddetta governance della sanità, e avremo una parte didattica, diciamo, di formazione rispetto a tutte le soluzioni e ai documenti di guida che abbiamo, di linee guida, che avremo sviluppato nel corso del tempo. L'assalto questa slide sono gli obiettivi fondamentali del progetto, che soprattutto sono relativi al miglioramento della nostra conoscenza, alla mitigazione dei rischi, a contribuire a politiche migliori in futuro, preparare, formare e anche sviluppare sul mercato soluzioni innovative che saranno di diverso tipo, alcune sulla gestione degli ospedali e dell'ospedalizzazione, altre su come utilizzare le app dal punto di vista tecnologico e sullo sfondo, il tema che non ho toccato perché lo lascerò a Paola tra poco, come integrare varie fonti di dati, perché in questo torno di tempo, dall'inizio della pandemia, abbiamo visto l'utilizzazione di modelli statistici, abbiamo visto l'utilizzazione di modelli di intelligenza artificiale con vari livelli di trasparenza, diciamo, anzi in alcuni casi, come nel caso dell'Imperial College, abbastanza oscuri, diciamo, e abbiamo visto una situazione in cui i governi di oggi si trovano a doversi cimentare con uno sport nuovo, che non è uno sport, diciamo, una pratica nuova, quella di dover guardare i dati in maniera critica, quella di dover fare foresight sull'evoluzione degli eventi che intendono regolare, e quelli di integrarsi molto di più con la scienza sociale, con le scienze esatte, nello sviluppare politiche pubbliche orientate alla sostenibilità. Quindi questo è Periscope, naturalmente verrà definito in maniera più approfondita per la parte statistica da Paola e Paolo. Periscope comincia con ogni probabilità, stiamo definendo gli ultimi dettagli, il primo novembre. È un progetto complesso, avremo bisogno di tutta la comunità degli statistici e tante altre comunità, con la disponibilità di integrarsi e di confrontare le loro esperienze, perché non possiamo permetterci di sbagliare un progetto di questo tipo, è un progetto da 10 milioni di euro, su cui conta l'Unione Europea e i cittadini europei. Per cui mi fermo qui, qualsiasi altro dettaglio naturalmente volentieri lo condivido, ripasso la parola, penso a Paolo che è il moderatore per continuare con le presentazioni, grazie. Grazie, grazie Andrea. E darei la parola a Paolo appunto per approfondire gli aspetti statistici nell'ambito del quadro di riferimento che è delineato molto chiaramente Andrea. Paola, a te. Grazie, grazie Andrea. Grazie Paolo. Adesso faccio una condivisione di questa slide, che così dà un po' l'idea, un'idea alternativa della struttura del progetto che è già stata presentata precedentemente, ma vista in un'ottica un pochino diversa. Scusate ma ho la barba che non mi permette di fare la condivisione. Bene, allora come ha detto Andrea, il progetto è complesso, multidisciplinare, ha tratti eterogeneo e coinvolge 32 istituti, 32 gruppi di lavoro e quindi questo richiede una forma di controllo molto forte perché altrimenti sarebbe facile perdere di vista gli obiettivi dovendo interagire con così tanti partner e dovendo gestire così tanti aspetti tra gli obiettivi stessi. Per questo la struttura è stata pensata, la struttura del progetto è stata pensata in cluster. Ogni cluster dovrebbe essere, sarà sufficientemente autonomo da poter lavorare su alcune parti del progetto individualmente, ma ovviamente come vedete da questa slide ogni cluster viene poi raccordato ai successivi tramite passaggi di informazioni, passaggi di dati, passaggi di approcci. Il cluster che menzionava Andrea, quello quindi dei dati, il famoso per noi famoso Data Atlas, Covid Atlas anche è quello, è il secondo cluster, quello diciamo centrale che racchiude questi tre work package. L'obiettivo, uno dei tanti obiettivi di questo progetto è quello poi di rendere disponibile un dashboard contenente una serie di dati abbastanza appunto eterogenei, adesso poi citerò qualcuno delle tipologie di dati che vorremmo includere, da poter rendere fruibile poi a tutti, quindi sia ai ricercatori che ai policy maker, in modo tale che ci sia già un punto di riferimento, un end point a cui tutti possano accedere in un modo sufficientemente semplice e da cui possano possano trarre informazioni. Attualmente in realtà navigando un po' ci sono già dei dashboard, dei dashboard che danno una serie di informazioni. Proprio un paio di giorni fa abbiamo fatto una delle prime riunioni di questo cluster, il progetto non è ancora iniziato ufficialmente come diceva Andrea, la speranza è per il primo novembre ma data la mole di lavoro e la complessità stiamo già lavorando da un po' di tempo, in questa appunto riunione abbiamo visto che ci sono già dei dashboard contenenti parte dei dati, principalmente i dati di contagio, quindi ci sono dei dashboard che danno a disposizione contagi rispetto ai paesi, rispetto a delle regioni, alcuni addirittura a livello delle province, dipende un po' dal sito che si controlla. Però una delle caratteristiche che è emersa sostanzialmente è che attualmente questi contenitori di dati non sono completi perché ecco di solito danno enfasi al dato sui contagi nel tempo ovviamente, normalmente tendono ad essere statici, non dinamici e non integrano altre forme di dati, c'è solo un dashboard che integra i dati relativi al CoronaNet che è un altro progetto interessantissimo che Andrea ha citato precedentemente perché racchiude, studia, compara e mette a disposizione sostanzialmente tutte le policy messe in atto dai governi in risposta alla pandemia, quindi avete una serie di informazioni del tipo quando sono state chiusi i voli, in che giorno, in che momento, quando sono stati riaperti oppure quando sono stati chiusi i negozi, che tipo di negozio è stato chiuso, quando sono state chiuse le scuole, eccetera, eccetera. Allora il CoronaNet sarà uno dei componenti di questo nostro Data Atlas, una componente importante sicuramente, ma non l'unica. L'altra grossa componente citata precedentemente sfrutta un progetto attualmente in corso, che è il Pulse Project, tra l'altro in cui l'Università di Pavia ancora è capofila, un progetto molto interessante perché mette a sistema sette città pilota, tra cui Pavia e Barcellona, oltre a New York e altre città, in cui sono stati posizionati dei sensori e tramite questi sensori si monitorano alcuni aspetti della qualità della vita di quella determinata della città, dell'inquinamento, eccetera. Questo progetto ci permette, appunto, essendo un progetto attualmente in corso ancora, ci permette di poter integrare anche questo tipo di dati sensoriali e unici, al momento non presenti da nessun'altra parte, all'interno del periscope. Ma non solo questo, l'idea sarebbe anche quella di integrare dei dati di tipo economico, veramente puramente economici, quindi al momento stiamo valutando quelle che potrebbero essere le fonti, chiaramente un classico Eurostat potrebbe essere un'idea, ma questa ancora, diciamo, fa parte della valutazione preliminare nella costruzione del Data Atlas, e dati, diciamo, invece un pochino più specifici e che sono il frutto proprio di questo progetto, all'interno, ad esempio, del WP5, si parla di Behavioral Data Science, data, cioè l'idea di mettere in atto una serie di protocolli di indagine, con l'Università di Trento come leader, per cercare di capire quali sono state le reazioni delle persone rispetto alle varie restrizioni messe in campo, quindi qual è stata la facilità di adattamento delle persone alle determinate restrizioni, divise ovviamente per tipologia di fasce d'età, piuttosto che tipologia di livello di istruzione, eccetera. Quindi andare a fare poi dei carotaggi, degli esperimenti su dieci paesi europei, quindi raccogliendo dati su persone di questi paesi, in modo tale da misurare anche proprio l'impatto, l'impatto sociale delle restrizioni. Questo è l'aspetto, diciamo, sociale, l'aspetto economico, quello che vi citavo prima, ma poi ci sarà poi l'aspetto medico, inteso come mental health, quindi l'impatto sulla salute mentale delle persone, rispetto sempre alle varie fasce d'età, le varie tipologie, gruppi sociali. Questo tipo di dati sarà l'output del primo cluster, quello che vedete nel primo ovale, diciamo così, e grazie a uno dei nostri partner, che è un riferimento europeo, cioè il Karolinska Institute, metteranno a disposizione i dati raccolti tramite questionari, dati di una certa, insomma, qualità, ne abbiamo appunto discusso in una di queste recenti riunioni, in modo tale da avere come informazione anche proprio esattamente l'impatto in base alle diverse anche tipologie di restrizioni, perché sappiamo tutti che non tutti i paesi hanno reagito nello stesso modo, ci sono stati paesi che hanno deciso, ad esempio, di non andare in lockdown, o di andare in lockdown parziale, o di arrivarci molto più tardi. L'Italia, beh, insomma, sappiamo tutti come ci siamo comportati e sottolineo il fatto che la scelta di Pavia, un'università di Pavia come capofila e come partner di San Matteo, in particolar modo all'interno del San Matteo, il professor Raffaele Bruno, che per chi ha seguito fin dall'inizio la pandemia, sa essere stato colui che ha curato il paziente 0 o 1, come lo vogliamo chiamare, insomma, Mattia, il primo paziente ufficialmente riconosciuto Covid, malato Covid, ha avuto, c'era una valenza anche proprio simbolica, quindi la Lombardia, Pavia in particolare, è stata la prima ad essere colpita in Europa e quindi è da qui che vorrebbe partire la risposta, la risposta al, un tentativo di risposta, non in termini propriamente medici, perché ovviamente non andremo a studiare dei vaccini, ma andremo a studiare l'altra fortissima, importante componente, che è quella dell'impatto socio-economico. Chiaramente una volta che questo Data Atlas prenderà forma, e, ripeto, sarà un lavoro molto complesso, banalmente perché tutti questi dati che stavo citando non sono sempre disponibili per tutti i paesi o hanno misurazioni differenziate, ad esempio noi per la regione della Lombardia abbiamo tantissimi dati, perché la regione della Lombardia ci darà, ad esempio, dati del cerca Covid, piuttosto che dati di altre app, quindi avremo a disposizione per alcuni contesti, per alcune regioni tantissimi dati, per altre regioni o per altri paesi, invece non avremo gli stessi dati. Quindi bisognerà pensare ad un modo sufficientemente furbo, smart, per rendere disponibili queste informazioni a tutti, con l'idea però di non avere soltanto il dato, il dashboard, ma avere anche delle analisi, delle analisi fruibili con dei risultati semplici da interpretare, ma che alle spalle abbiano degli strumenti, delle metodologie fondate, efficaci ed efficienti, quindi metodologie di tipo statistico, econometrico. All'interno di questo cluster, infatti, c'è un work package totalmente dedicato allo statistical modeling, all'interno del quale partecipano varie università, partecipa ovviamente l'Università di Pavia, partecipa il San Matteo, che è molto attivo anche, anche i ricercatori del San Matteo sono molto attivi su questo, sull'analizzare i dati che sono disponibili, parteciperà l'Università della Svizzera Italiana, parteciperà la Goethe University, insomma ci sono vari player che cercheranno di dare, di poter analizzare al meglio questi dati, con tecniche statistiche ed econometriche, da un punto di vista, diciamo, più statistico, utilizzeremo modelli di network, quindi modelli di contagio, per andare a valutare l'impatto, dell'impatto, sì, di contagio e l'impatto economico, ovviamente, tra pazienti, ma anche tra regioni, tra paesi. Studieremo ancora di più modelli SIR, modelli dinamici, modelli econometrici, quindi che cercano di stimare quella che è l'andamento della pandemia, quindi l'andamento dei contagi, una cosa che è molto complessa, molto difficile, tutti gli statistici che magari adesso stanno ascoltando, lo sanno quanto dibattito c'è stato in questi mesi, sul fatto che spesso tante persone si sono improvvisate ad analizzare questi dati in maniera non consona, spesso non ci si inventa statistici, quindi bisogna essere molto attenti nello studiare e nello scegliere i modelli corretti, ma ripeto, all'interno di questo progetto abbiamo tantissimi partner e tantissime università con bravissimi statistici e econometrici che sicuramente faranno del loro meglio per valorizzare questi dati. E comunque poi alla fine del progetto, ripeto, questi saranno disponibili, se non tutti, una gran parte di questi dati saranno disponibili e permetteranno alla comunità, ai tutti i ricercatori che vorranno di poterli utilizzare. Come mi piace dire, spesso questo Atlas sarà un po' il tesoretto che il progetto Periscope rilascerà alla fine dei tre anni, uno dei tesoretti che rilascerà, perché, come ha detto Andrea, poi ci sono anche altri aspetti che verranno approfonditi in modo puntuale. ma visto che io lavorerò tanto, diciamo, su questo, mi piace enfatizzare questo tesoretto del progetto. Passo la parola volentieri al prossimo. Grazie Paola, grazie Paola. Passare la parola al dottor Sallusti, Maurizio di SAS, che ci illustreranno il loro approccio, il loro analisi decisamente interessante e sullo stesso tema. Sì, grazie. Diciamo, ho ascoltato con molta attenzione la caratterizzazione di questo progetto e sono stimolato da parecchie sensazioni rispetto a ciò che è stato detto, in quanto noi, allora, presento un attimo la mia azienda, la mia azienda è un'azienda multinazionale che si occupa da sempre di analisi statistiche e costruisce software in quest'ambito. Ci ha avuto una storia lunghissima nell'ambito clinico, in ambito econometrico, in ambito statistico in generale. per cui con questa pandemia si è creata un'attenzione particolare anche dalla nostra azienda è stato costruito un team diciamo internazionale che ha seguito laddove era possibile non solo l'evoluzione dei dati ma ha proposto e contribuito a fornire delle informazioni e delle modellizzazioni in alcuni paesi. In quest'ambito abbiamo fatto diverse esperienze e sentendo l'idea del progetto Periscope sono venute in mente alcune delle problematiche che abbiamo riscontrato e sulle quali credo sia assolutamente necessario cercare di sviluppare iniziative nel prossimo periodo proprio perché la pandemia non è un fatto isolato e soprattutto non è di breve periodo e soprattutto possono esserci altri frangenti purtroppo nel futuro che potranno essere caratterizzare cambiamenti nel comportamento della società in generale per cui è necessario capire quali sono i legami per prevenire per prevedere e per provare a minimizzare gli impatti negativi in questo contesto dal punto di vista sanitario ma anche socio-economico e come esperienze possiamo dire che uno alcuni elementi che posso mettere in luce sono i seguenti innanzitutto i dati questa tematica all'inizio ha visto un diciamo quasi un gioco quello di poter prevedere dove andava la curva epidemiologica nel corso dei successivi periodi intorno tra febbraio e marzo e non solo in Italia ma in quasi tutto il mondo e si sono cimentati su questo tantissime esperienze su modellizzazioni di varia natura però tutto ciò ha messo in evidenza due elementi che posso cercare di evidenziare uno che c'è tutto un settore che lavora da tanti anni fortunatamente anche in maniera forse troppo silente per il settore epidemiologico che ha messo in piedi in tutto questo lunghissimo periodo perché non è questa l'unica epidemia che c'è stata questa sia una pandemia mondiale però di epidemia ce ne sono state anche delle altre hanno messo in piedi dei paradigmi utilizzando delle metodologie dei paradigmi un modo di trattare i dati che non è usuale nel mondo business non è usuale nel mondo della ricerca sociale e quindi hanno tracciato delle esperienze notevoli e in particolare la questione è guardare i dati non come essi arrivano ma guardare i dati per come essi rappresentano la realtà quindi c'è un problema un grosso problema di integrazione dei dati con il fenomeno sociale quando parlo di questo faccio riferimento anche a alcuni aspetti che sono stati detti poc'anzi e quali siccome l'epidemia in particolare questa è un'epidemia che si trasmette via aerea quindi facilmente dal contatto sociale è chiaro che implica che la caratterizzazione del contatto sociale non è un numero che può partecipare a un modello all'inizio perché non si hanno altri dati e si tratta di capire questo contatto sociale che è una cosa dinamica che è una cosa che dipende dall'evoluzione economica dallo stato della società dalla sua demografia dalla sua cultura come in ogni paese si riesce a determinare una misura o delle misure che caratterizzano il comportamento dinamico della popolazione questo è un tema molto molto delicato perché tramite questo tema si riescono poi a costruire delle previsioni e delle simulazioni sul futuro degli scenari che hanno che sono realistici o catastrofici o troppo ottimistici quindi si tratta di su questo si tratta di trovare un giusto compromesso tra ipotesi realtà dati disponibili raccolta dati che nel progetto che voi avete illustrato credo che siano elementi centrali di tutta questa faccenda e l'altro elemento che voglio mettere in evidenza che ci siamo trovati a a trattare è che se uno cerca di costruire una un modello che prevede il futuro deve tener conto di quanto è sensibile questo modello o a che cosa esso è sensibile abbiamo visto è stato detto anche in precedenza che sono stati fatti tantissimi modelli di cui poi non si sa la spiegazione la loro ripetibilità la loro tracciabilità nel corso del tempo questo è un altro tema molto importante se si vuole mantenere un contatto con la realtà e capire e prevedere e costruire un tappeto informativo utile alle decisioni politiche in questo contesto io credo che noi in Italia abbiamo avuto un'ottima riuscita rispetto ad altri paesi perché è stato fatto un egregio lavoro dal punto di vista del comitato tecnico scientifico dall'INAIL dall'ISTAT per determinare i rischi una mappa dei rischi per esempio delle varie categorie sociali e qui entro sull'ultima cosa che volevo dire fondamentalmente dal punto di vista io sono uno statistico dal punto di vista statistico questa è una sfida molto importante in quanto non si tratta più di selezionare dei dati che sono disponibili ma si tratta di navigare fare surfing su dati che sono disponibili in tanti luoghi tante realtà anche prendere dati facendo delle service specifiche e integrarli tra loro utilizzando dei modelli che si è non in grado di dominare la tematica e i modelli che in questa direzione sembrano essere molto più utili e sono i modelli che vanno sotto il nome di modellistica bayesiana la quale produce ipotesi confutabili migliorabili e che quindi ci consente di trattenere ciò che i dati realmente dicono per un futuro che cambia dinamicamente quindi in questo contesto credo che noi abbiamo fatto alcune esperienze in questo ambito facendo costruendo diciamo un modello per esempio negli Stati Uniti per la stima del numero di posti nelle terapie intensiva terapie intensive in alcuni Stati degli Stati Uniti abbiamo applicato altri modelli sui contatti sociali basati sugli spostamenti e in quest'ambito quello che stavo dicendo noi ci siamo concentrati per esempio su modelli di stima dei contact tracing contact rate scusate che anziché essere un numero può essere una matrice questo è assolutamente un problema ancora aperto a livello europeo è stato investito visto che voi avete anche esperienza a questo è stata in visione negli anni passati su progetti tipo Polimod che fornivano delle stime in questa direzione ma credo che sia oggi con quello che è accaduto tutto da ricostruire e quindi ben venga la possibilità di mettere in piedi un sistema dinamico che abbia la capacità di essere replicabile migliorabile e in base all'evoluzione che i dati producono e questo è quanto mi sento di dire insomma visto il contesto del discorso fatto finora Paolo sei muted scusate dare la parola al dottor De Biasio di Estilos a questo punto e poi magari visto che il tempo sta scorrendo chiederei magari a Andrea che ti è venuto per primo di fare un recap e un feedback dei commenti precedenti grazie 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 Paolo io sono Alvise De Biasio e in Estilos diciamo che mi occupo di innovazione mi occupo di intelligenza artificiale machine learning e tutti quegli scenari che riguardano la legisla di dati e l'applicazione dei modelli di machine learning al mondo delle aziende diciamo che mi occupo cosa faccio nella pratica in pratica aiuto le aziende a crescere e a diventare imprese intelligenti guidate dai dati quindi guidati dalle analitiche avanzate guidate dai modelli di machine learning in modo tale da prendere decisioni più consapevoli volevo giusto presentare un po' anche cosa facciamo nel concreto nel senso che Estilos è una realtà consolidata da ormai da tempo ho preparato qualche slide che volevo mostrarvi eccoci qua Estilos è una società di consulenza di consulenza che ormai da 15 anni si occupa di innovazione e aiuta le imprese nella loro trasformazione digitale chiaramente integrando soluzioni sia di experience quindi tutto ciò che riguarda il mondo esperienziale i dati esperienziali ad esempio pensiamo ai dati dei clienti CRM soluzioni di intelligence quindi parliamo di analitica advanced analytics e il mondo chiaramente delle operations tutto ciò che si intende per il classico IRP ma non solo non solo ecco per quanto riguarda la nostra proposta rispetto al progetto Periscope vorrei dire che il nostro ruolo è un ruolo che dal mio punto di vista è complementare al progetto Periscope ed è anche molto sinergico seppur è chiaramente focalizzato nel mondo delle aziende nel mondo dell'industria I problemi e i temi che sono stati affrontati per quanto riguarda la pandemia covid e l'impatto sulle finanze sull'economia e sulla società chiaramente li conosciamo tutti volevo allacciarmi anche all'intervento di Andrea Renda per quanto riguarda il concetto di resilienza le aziende chiaramente sono impreparate spesso a questi tipi di eventi e l'abbiamo visto molto da vicino devono reagire molto velocemente devono reagire velocemente nel breve termine devono reagire devono cercare di mantenere gli obiettivi a fine anno devono cercare di pagare gli stipendi dipendenti banalmente quindi si tratta di tutta una capacità adattativa che deve essere sviluppata lo vedo nel concreto questo in alcuni nostri clienti soprattutto nel campo dell'industria manifatturiera che è stata una delle industrie più colpite da questo tipo di di problemi da questo tipo di pandemia ecco diciamo cosa vedo in particolare le aziende non riescono innanzitutto a mantenere gli obiettivi di vendita questo produce indebitamento e chiaramente non hanno la liquidità non hanno la liquidità neanche per pagare i dipendenti e le famiglie chiaramente ci sono problemi di governance dal punto di vista dell'amministrazione del governo e la cassa integrazione a livello di pardo chiaramente questo ha tutta una serie di ripercussioni su tutta la filiera e si entra si entra in una specie di circolo vizioso che diventa molto problematico sia nel breve ma soprattutto nel lungo termine ecco questa situazione la vedo molto bene nel mondo dei bilanci e del finance aziendale e proprio per questo quindi per rispondere e trovare un metodo efficace per rispondere a questo tipo di eventualità abbiamo sviluppato dei modelli finanziari basati sulla tecnologia protettiva l'intelligenza artificiale e il machine learning in modo tale che le aziende e i manager riescano a prendere decisioni più consapevoli a partire sia da una chiara lettura delle dinamiche aziendali interne ma anche dalla risposta e dall'esigenza del mercato ecco abbiamo in particolare sviluppato dei modelli di forecast che adesso vi vorrei mostrare che integrano dati provenienti dal mondo finance dai processi di vendita marketing dalla produzione dai controlling in modo tale che confluiscano tutti quanti in un unico modello consolidato di bilancio fonte economico cash flow rispetto a tutte queste premesse dove ci posizioniamo e cosa proponiamo diciamo che la nostra proposta si basa sull'intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali in particolare ci poniamo tre obiettivi nel modiato faccio una battuta chiaramente riportare in positivo il cash flow assolutamente ridare liquidità alle imprese nel medio termine invece per quanto riguarda l'anno entro l'anno cosa dobbiamo fare compensare il più possibile l'effetto economico del covid sulle finanze aziendali viceversa nel lungo periodo e qui ragioniamo dai 4 ai 5 anni e addirittura dai 3 ai 5 anni che vi sia viceversa un trend crescente della reddittività questi sono i nostri i nostri obiettivi diciamo abbiamo sviluppato dei modelli traduttivi che si integrano in bruscotti come quello che vedete e poi viceversa oltre al lato previsionale abbiamo degli strumenti più avanzati di simulazione per capire come gestire al meglio i conti dei bilanci chiaramente sia sulla base dell'esigenza dell'azienda ma anche e soprattutto sulla base della risposta del mercato abbiamo già vari clienti per questo progetto e abbiamo fatto vedere abbiamo avuto diciamo un descritto successo anche in Australia dove abbiamo rissecuto dei feedback molto positivi abbiamo accordi con l'Inghilterra diciamo che i modelli predittivi sono utilizzati secondo varie esigenze in questo caso abbiamo gli algoritmi di breve periodo che sono utilizzati nella pianificazione operativa in modo da agire tempestivamente adattando il business dell'azienda a gestire diciamo la criticità immediata quindi a gestire questo stato di emergenza questi primi mesi di emergenza e come fare soprattutto per ridare liquidità alle aziende in modo tale che possano continuare le loro operations in modo che riescono a portare avanti la produzione a pagare i dipendenti a fare in modo che le famiglie non siano troppo impattate da questa cosa abbiamo gli algoritmi di medio periodo che sono utilizzati per capire come rimodulare il budget in funzione degli obiettivi di esercizio quelli annuali in modo tale da compensare andando a cambiare il budget nelle varie nei vari centri di costo aziendali e capire come attraverso aggiustamenti e raffinamenti successivi e la simulazione capire come aggiustare i costi e i ricavi in funzione del mercato e arrivare a fine anno a un perlomeno a un net income che non sia troppo negativo viceversa su lungo periodo ragioniamo attraverso dei modelli adottivi che sono coinvolti in dinamiche più strategiche i clienti li usano ad esempio per capire gli effetti della variazione del marketing mix sulla marginalità dei prodotti e delle linee prodotto piuttosto che il timing le prospettive più ottimali per gli investimenti oppure per capire ad esempio il momento più adatto per chiedere un finanziamento per avere più liquidità immediata ecco diciamo che tutte queste che vi ho accettato sono solamente alcune delle circostanze che possiamo in cui possiamo sfruttare l'intelligenza artificiale e la data science per combattere gli effetti economici con un pluscott una dashboard concreta per aiutare le aziende ad affrontare questa situazione ecco diciamo che questa è la nostra è la nostra proposta immediata viceversa viceversa chiaramente abbiamo in cantiere moltissime moltissime altre proposte e soprattutto pensiamo al futuro ecco futuro che spesso è una parola di cui si abusa quali sono le nostre proposte per il futuro ecco diciamo che sebbene tutto questo machine learning l'intelligenza artificiale i modelli predittivi sappiamo bene che al futuro non possiamo dare una risposta certa una confidenza statistica del 100% questo lo sappiamo tutti non è un mistero viceversa viceversa siamo pronti a scommettere e questa scommessa è un po' ciò di cui vorrei parlare per il futuro è che se tutti noi ci mettiamo di impegno nel nostro piccolo sia nel nostro lavoro ma anche nella nostra quotidianità allora forse tutto questo quindi queste eventualità questi eventi catastrofici che ci hanno sconvolto in questo periodo cambieranno noi cambieremo e auspicabilmente saremo uniti verso un futuro migliore e come si coniuga questo nel concreto diciamo e adesso adesso viene il dunque stiamo sviluppando dei modelli predittivi che si integrano con la metodologia agile e e non solo nel senso che attraverso la metodologia agile e le operations aziendali riusciamo e questo è il nostro obiettivo vogliamo efficientare i processi aziendali dall'interno si tratta di un modello iterativo che funziona per raffinamenti successivi che stiamo testando noi come aziende in prima persona e non vorrei citare troppe cose diciamo che il modello si basa sia sulla teoria dei grafi delle relazioni ma anche sull'elaborazione del linguaggio naturale e in particolare il nostro obiettivo è innanzitutto capire come orientare l'attività delle varie figure in azienda verso gli obiettivi di business dell'azienda stessa poi ad esempio ci sono altri obiettivi come capire come si propaga l'informazione piuttosto che capire come si genera il talento nelle persone capire come dare supporto per rendere le persone più indipendenti nel loro lavoro capire come migliorare e viceversa tutte quelle attività inefficienti e ripetitive che rappresentano uno spreco per l'azienda in modo tale da avere più tempo a disposizione per le attività ad alto valore ecco quindi sì in questo caso per il futuro la mia scommessa è che per rispondere con efficacia a questa emergenza sia nell'immediato ma ancora di più in futuro dobbiamo metterci tutti quanti di impegno affinché le cose cambino e questo impegno dipende in primo luogo da noi quindi come si dice ci dobbiamo rimboccare le maniche e lavorare insieme per costruirci un futuro un futuro insieme diciamo ecco grazie tante credo in effetti credo che questi diversi interventi abbiano mostrato forti complementarietà e questo era anche lo scopo del progetto per risco cioè diciamo sollecitare complementarietà e sviluppi integrati darei la parola ad Andrea per una sintesi finale visto che il tempo è trascorso sì faccio una sintesi molto breve ringrazio a parte Paolo e Paola che già conoscevo con i quali sono impegnato in questa in questa avventura anche Maurizio e Alvise se posso chiamarvi per nome l'idea è che Periscope possa fungere da contesto e anche da acceleratore di alcune di queste iniziative e anche da occasione di confronto perché tutto il lavoro che faremo anche nell'integrazione dei dati sarà un lavoro che deve rimanere aperto a proposte di ulteriore integrazione e anche come diceva Maurizio i dati si possono integrare ma si possono integrare in tanti modi insomma integrarli in un modo che abbia senso che fornisca davvero una guida utile a chi poi deve sviluppare le politiche pubbliche per comprendere meglio la realtà e la sua evoluzione questo è un compito veramente molto difficile quindi è importante che ci teniamo tutti quanti vicini che anche nelle occasioni di condivisione dei primi risultati di Periscope torniamo a confrontarci e ogni input e ogni occasione di collaborazione sarà la benvenuta nel caso dei modelli statistici ovviamente è stato detto molto ci confronteremo con varie metodologie volendo quasi varie religioni se volete tra il machine learning i modelli baisiani per certi versi i modelli di deep learning e anche alcuni delle tecniche come quella di network analysis e di deep learning di cui faceva riferimento Alvise vediamo come queste comunità riusciranno a integrarsi sempre nell'ottica appunto che quasi ecumenicamente richiamava Alvise di collaborazione perché la cosa peggiore che possiamo fare in una condizione del genere è replicare alcuni scismi alcune diciamo fratture che esistono all'interno dell'accademia che spesso ci impediscono di poi sviluppare un lavoro realmente interdisciplinare quello che evoca Alvise è una cosa ancora più interessante cioè come si fa a lavorare sulla resilienza per certi versi rendendo agili anche i soggetti che poi interpretano il meccanismo di mercato è diverso un mondo in cui un evento imprevisto genera un rischio e il tessuto produttivo ad esempio ha l'agile management come si chiama la capacità di rispondere in maniera rapida a un evento imprevisto rispetto a una situazione in cui invece forme di gestione più tradizionali e forme di rigidità particolari impediscono l'economia di reagire nel verso giusto anche per chi fa politiche pubbliche è importante conoscere la capacità di reazione del settore privato e sapere quali algoritmi si utilizzano all'interno del settore privato è fondamentale per sviluppare lo scambio di informazioni dal settore pubblico e dal settore privato in questi casi se vedete l'economia americana in questi casi quello che veramente è stato agile è stato il tasso di disoccupazione nel senso che si è passati da 300.000 persone in sostituto di disoccupazione a 30 milioni a giro di tre settimane e poi questo tasso è andato fluttuando in maniera costante nel tempo è quasi imprevedibile perché il mercato è molto agile ma questo vuol dire anche che i soggetti che interpretano e che operano all'interno del mercato non hanno la safety net non hanno la sicurezza di fondo che per un modello come quelli che citava il BISE che stanno sviluppando che deve incorporare il rischio il rischio di sistema anche il rischio esterno è un fattore che secondo me diventerà sempre più importante quindi queste soluzioni quelle di SAS quelle di Estilos tra le altre potranno trovare un posto anche in Periscope perché noi abbiamo dentro i nostri tre anni intensi di lavoro anche una funzione di acceleratore se vogliamo di incubatore abbiamo questa innovation challenge abbiamo tre round di identificazioni di soluzioni innovative da spingere diciamo all'interno del mercato unico europeo presentandoli come soluzioni che hanno funzionato a livello locale o che possono funzionare a livello locale e quindi in qualche modo caldeggiandone la applicazione anche in altre parti d'Europa per cui senz'altro rimaniamo aperti con le antenne dritte anzi col periscopio sopra la superficie perché alcune di queste soluzioni e soprattutto Eschilos continuate anche SAS continuate a lavorarci su perché tra 18 mesi faremo una grande call per soluzioni innovative e ci vedremo a Stoccolma e spero che riusciremo tutti insieme a dotarci finalmente di uno strumentario degno di questo nome per navigare questa crisi che non sappiamo poi quanto durerà e per prepararci anche alle inevitabili crisi che verranno dopo sperando che arrivino il più tardi possibile ripasso la parola a Paolo magari per chiudere e vi ringrazio tutti grazie grazie Andrea direi che a questo punto non resta che ringraziare tutti per l'attenzione e voi partecipanti per la tavola rotonda che è stata direi molto centrata anche sugli aspetti di interazione tra le diverse esperienze e questo è diciamo molto importante per il nostro paese che potrà anche in questo caso portare un proprio contributo importante al dibattito e soprattutto alle soluzioni in quest'ambito a livello europeo grazie a tutti e buona serata grazie a tutti 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 Grazie a tutti.